Non si è fatta attendere la risposta dell'assessore all'ambiente del comune di Trani, Michele Di Gregorio, che dopo la manifestazione di interesse dei giorni scorsi ha voluto convocare le associazioni che hanno chiesto di far parte del Comitato di Controllo di Scarico e Località Puro Vecchio per importanti comunicazioni. Una prima riunione per rendere trasparente le vicende legate alla delicata questione con l'obiettivo di condividere oneri ed onori con tutti i soggetti coinvolti. Un invito pubblico, quello svoltosi presso la Sala Azzurra di Palazzo Città, cui hanno preso parte una rappresentanza del Comitato Quartiere Europa della Città di Andria, il Comitato Bene Comune di Trani, Lega Ambiente di Trani, Commissione Ambiente PD Trani, CGLBAT, Confesercenti, BAT Aria, Energia e Ambiente, Comitato del Quartiere Pozzopiano. Abbiamo fatto un invito pubblico, pubblicato sul sito del Comune, aperto a tutti i soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale che avevano voglia di lavorare con noi. Oggi abbiamo ricevuto una serie di domande, oggi è la prima riunione, quindi verifichiamo adesso la disponibilità dei soggetti che sono stati invitati a condividere onori ed oneri di questa gravosa vicenda. Un'occasione propizia anche per comunicare gli esiti di un incontro a Bari del primo aprile con l'assessore Sant'Orsola. La cosa che mi tranquillizza e penso tranquillizzerà tutti i cittadini tranesi è che probabilmente siamo riusciti a superare lo scoglio delle risorse necessarie per bonificare e mettere in sicurezza il sito. Questo mi sento dire con certezza perché di tutto questo si è parlato ed è stato formalizzato, verbalizzato nel corso del primo aprile e quindi questo ci dà un buon auspicio su quella che è la risoluzione del problema. Al netto del fatto che in tutti questi mesi l'AMIO insieme al Comune di Trani sta monitorando la notizia di qualche giorno fa che fortunatamente i risultati relativi ai campionamenti delle acque del famoso pozzo Pisevù sono rientrati nella norma, tranne che per il manganese, però tutto il resto sono rientrati nella norma. Grazie.